Vorrei chiedere la cura esclusiva della 231. Motivazione specifica? Simpatia reciproca. Bene, su, giù, piano, su. Quanti anni sono passati? Sei ancora arrabbiata con me? La mamma è tornata. Non dobbiamo essere cattivi. C'è questi? Lei non ti vuole. Non ti ha mai voluto. Tu sei come me. Io sono peggio di te.